Ciao, sono Andrea di Langa Studios, oggi vi parliamo di un'industria cartiera e del suo social. Ve lo faccio vedere subito. Allora, il focus primario per questo progetto è stato trovare la giusta identità grafica. Non facile perché comunicare un contesto industriale è piuttosto complesso. Si tratta di un ambiente molto tecnico, molto serio. Da queste cose bisogna comunque tirar fuori contenuti che possono interessare il pubblico e portarlo al contatto sul sito web aziendale. Per questo piano vi vorrei parlare in particolare dell'asset grafico che è stato realizzato dai nostri designer. Per rendere le pubblicazioni più di appeal per l'utente abbiamo voluto variare con l'impostazione grafica. Come vedete non sono tutti post uguali, ma sono ispirati ai banner promozionali che i nostri web designer hanno anche inserito sul sito. Questo viene fatto quando si vuole evidenziare che il cliente ha diverse linee di prodotti che logicamente vanno distinte una dall'altra. Come vedete qui c'è una linea con riferimenti alla carta, qui un'altra che riprende la grafica del prodotto e poi anche i post dedicati alle varie certificazioni di qualità ed ecosostenibilità molto importanti per il cliente. Abbiamo realizzato nella playlist percentuale web un video che andava appunto a spiegare come veniva costruito il sito web di questa azienda. Quindi se l'avete visto avrete intuito che quello che abbiamo fatto va a riprendere lo stile utilizzato nelle diverse aree del sito perché appunto lo scopo dell'intervento era generare un incremento di traffico sul sito web aziendale portando proprio gli utenti social ad interessarsi ad approfondire.